Ancora gesti di insofferenza nei confronti delle regole imposte a livello centrale sul contrasto della pandemia. Questa volta il problema era rappresentato dal non voler indossare la mascherina in un ufficio pubblico. È stato evidentemente denunciato dai carabinieri per minacce e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. L'uomo è stato sorpreso vicino all'ufficio postale di biella con un coltello all'interno del giaccone. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbe presentato in posta per effettuare alcune operazioni di cassa senza la mascherina sul volto ma semplicemente sotto il mento. Il personale di servizio gli avrebbe chiesto di indossare correttamente il dispositivo di protezione ma la discussione sarebbe velocemente degenerata. L'uomo poi avrebbe mostrato un coltello sotto il giaccone. Immediata la reazione degli operatori in servizio che hanno allertato le forze dell'ordine. L'uomo si è poi velocemente allontanato dagli uffici ma poco dopo è stato rintracciato dai militari dell'arma che dopo averlo perquisito gli hanno trovato indosso l'arma posta poi sotto sequestro.